Prenderà il via da domani, sabato 4 gennaio, fino al primo marzo nelle Marche, la stagione dei saldi invernali. Per i successivi giorni si potranno acquistare capi d'abbigliamento, calzature, accessori a prezzi scontati. Opportunità che arriva dopo il Black Friday e il Cyber Monday di fine novembre, con lo shopping pre-natalizio effettuato sia nei negozi tradizionali che online. Per questa ragione le associazioni di categoria prevedono una partenza più in sordina rispetto agli anni scorsi e i commercianti studiano da tempo nuove formule di sconto. A Fano fervono i preparativi per dare il via a questa nuova stagione di maxi sconti per i consumatori. Quali saranno gli sconti che applicherete a partire da domani? Da domani ci sarà dal 30% fino al 70% su articoli selezionati, collane, bracciali, argento 925, quasi di tutto praticamente. Oltre alle previsioni di spesa, come ogni anno, è buona regola per esercenti e consumatori seguire le norme giuste per fare acquisti in sicurezza, ovvero evidenziare l'oscillazione dello sconto praticato, non esibire sconti generici se ci si riferisce solo ad alcuni articoli, separare in modo chiaro le merci offerte a prezzi di saldo da quelle poste in vendita alle condizioni normali, evidenziare il prezzo originario e quello scontato ed infine accettare i pagamenti con Bancomat e carte di credito. Signori buongiorno, domani iniziano i saldi, avete già in mente che cosa acquistare? Io ho già speso per Natale, sono a posto. Abbiamo già fatto shopping. Già fatto shopping? Sì. Cosa avete acquistato? Vestiti, collane, cose simili. Sì, è da posto. Vi avete già in mente che cosa acquistare? No. Voi? Ma nemmeno io, siamo appena tornati, non abbiamo idea. Comunque ne approfitterete per questa occasione? Sì, probabile. No, ancora no, ancora no. Vi soffrirete comunque di questa occasione? Sì, qualcosina sicuramente, qualche magliettina per lui, qualche giacca, le scarpe, qualcosa compriamo. Lei invece? Anch'io sì. Ne approfitterà signora di questi sconti? Sicuramente, aspettiamo con ansia tutti credo, perché credo che nessuno abbia fatto spesa finora per questo, quest'anno. Qualcosa sì, ma c'è tanta roba in casa che è difficile a scegliere adesso così. Su cosa si concentrerà? Abbigliamento, accessori? Eh, beh, sempre emigliamento, sì. Qualcosina di nuovo se trovo, che mi piace. Attende l'affare, dunque. Esatto. Come va, come va, come va.